Bene, si è concluso il 23esimo congresso nazionale psicologia dello sport e dell'esercizio è andata molto meglio di quello che ci aspettavamo è stata un'esperienza unica per alcuni aspetti c'è stata una complessità da gestire che davvero non ci aspettavamo e per questo mi sento di ringraziare un pochettino tutti la Evans in modo particolare perché ci è stata dietro e a fianco organizzare un congresso online era qualcosa di molto nuovo per noi abbiamo avuto già dei feedback che sono stati dei feedback davvero positivi feedback che partono dal numero dei partecipanti alle visualizzazioni in diretta che abbiamo avuto e i feedback veri e propri che ci hanno mandato subito dopo il convegno crediamo di esserci stati, di esserci stati in questo momento difficile di esserci stati nel migliore dei modi o quantomeno nel migliore dei modi che era possibile a noi fare per quanto riguarda i progetti futuri abbiamo in mente moltissime attività da portare avanti cercare di essere davvero presenti sul territorio, sulla rete e complessivamente nel mondo sport cercheremo di farlo nel migliore dei modi ci saranno delle novità, alcune già sono state comunicate rispetto al nostro giornale dei webinar, tutta una serie di webinar come ci sarà la possibilità torneremo ma probabilmente anche con qualche appuntamento in presenza e tante altre cose che però adesso non vorrei svelare e quindi in bocca al lupo a tutti e a presto